Questa è la morning routine di Sara con il papà, sì con il papà, perché io e Francesco siamo organizzati così. Tre giorni a settimana si occupa lui di portare i bambini a scuola e tre giorni io. Qua sta facendo un cambio veloce, solo con salviettina, perché Sara questa mattina era pulitissima. Un pochino di crema per ripararci dal freddo e poi si andrà a fare colazione. Oggi c'è una bella ciambella che ho preparato ieri pomeriggio. Eh sì, io lo sto imparando negli anni, che l'organizzazione e la collaborazione in famiglia sono davvero due elementi fondamentali per essere sereni. E avere anche tutti gli oggetti giusti, nei posti giusti, aiuta tantissimo. Grazie.